Si è svolta a Castellabate, al Castello della Barre, la prima giornata del Festival della Teologia Incontri. Una tavola rotonda sul tema della vita a cui hanno partecipato Don Roberto Guida, responsabile della pastorale Famiglia e Vita della Diocesi di Vallo della Lucania, la professoressa Lorella Parente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, la direttrice di Punto Famiglia Giovanna Bagnara e la delegata nazionale del Movimento per la Vita Elisabetta Pittino. Nel corso della serata è stato anche conferito il premio Incontri 2019 a Marina Casini Bandini, presidente del Movimento Nazionale per la Vita. L'evento andrà in onda questa sera alle ore 21 su Cilento Channel. Il Festival prosegue il 7 agosto a Caggiano con la professoressa Giuliana Albano che terrà una relazione sulla vita nell'arte e a seguire il concerto della corale della Diocesi di Vallo della Lucania, diretta dal maestro Maurizio Iacovazzo.